Ma allora, quindi, che dobbiamo dire? Niente, stiamo girando il video di testi patogeni, gosk, drone, poi ekizo, incoglione, testa di Giazzo, l'altro coglione, coglione e malincoppia Ma vabbè, a parte tutta questa bella compagnia e ovviamente in regia ci abbiamo Daniele Rocco Cioè è il baby che ti muove Questa è X, un pleone screw, Brothers of Destruction è tornata a mandarvi a casa E non mi fermi mixtape, come giù, che cucina appresso Insomma, tutti i best, tre post, vi rompiamo il culo, ciao Tutti a casa, come è come tutti a casa? A casa, tanto ai cipro Ho rimasto per chi, cabaretisti, onorate le mie rime e diventate criticisti Potenti, metodici, testi, patogeni, droga potente Tutti a casa, tanto al Chium cały coli si sono